Nel giorno di San Costanzo la Minimetro S.P.A. ha voluto festeggiare i primi 16 anni di vita del noto sistema di trasporto automatico su rotaia con trazione a fune inaugurato proprio nel 2008. Per l'occasione insieme all'Automobile Club Perugia è stata anche messa in piedi un'interessante iniziativa rivolta agli adolescenti, protagonisti di particolari test formativi mediante il simulatore di guida. Ogni partecipante è stato seguito da un istruttore qualificato. Il sedicesimo compleanno di Minimetro ci ha fatto pensare ai sedicenni e ai giovani già in età di guida delle minicar e l'idea di contribuire, di dare una sorta di input, una sensibilizzazione per un'attenzione alla guida, la guida sicura con i mini, che siano le mini macchine, che siano le macchine normali, è estremamente importante perché serve per migliorare la sicurezza, la tranquillità sia dei giovani che si approcciano alla guida, sia anche dei genitori che concedono ai figli l'opportunità di incominciare a guidare ancora prima dei 18 anni. Il progetto è stato dunque pensato per ricordare ai ragazzi l'importanza della sicurezza stradale. Anche chi al momento non possiede un mezzo privato, è bene che conosca a fondo determinate dinamiche la base della guida di mezzi a due o quattro ruote. Ai ragazzi ritenuti più virtuosi è stata consegnata la tessera ACI Sistema e sono stati garantiti degli sconti sul corso di guida per il patentino, nonché su quello di guida sicura presso l'autodromo di Magione, per i primi tre classificati anche una targa speciale.